50 cose da declaterare oggi, facili e veloci senza neanche pensarci, perché ci è già pensato il tempo per noi, per farci capire che queste cose non ci portano valore, non meritano il nostro spazio, il nostro tempo e la nostra attenzione. Le cose hanno questo potere di accumularsi e riempire la nostra vita, siamo circondati da cose, pensiamo alle cose, dobbiamo continuamente gestire cose, ma le cose sono qui per aiutarci, per svolgere una funzione, per rendere la nostra vita più facile, più comoda, migliore in qualche modo, no? E quando è che le cose hanno smesso di fare questo? Quando sono diventate troppe e hanno invaso non solo il nostro spazio, ma anche la nostra mente, ma la nostra attenzione, l'energia è la cosa più preziosa che abbiamo e non va sprecata, basta procrastinare e liberiamoci dei pesi e del superfluo, iniziamo subito, sono Irina e ti do il benvenuto sul canale Spazio Grigio. Prima di iniziare, sotto nella descrizione trovi il link per scaricare la guida gratuita con la lista di cose da declaterare e consigli veloci per farlo. Ok, cominciamo con la cucina. Numero 1, ricordo che sono cose facili e veloci a cui non dobbiamo neanche pensarci. Spezie, sono sicura che hai spezie che non usi, le spezie con il tempo scadono, quella curcuma del 2018, si sono passati cinque anni, abbiamo capito, no? Tazze, oh che carina, la prendo, regali, souvenir e ti ritrovi con 26 tazze per tre persone. Noi abbiamo fatto un grande decluttering, in particolare io, erano le mie, e ho capito che quella tazza che era speciale cinque anni fa non lo è più e quindi non c'è motivo di tenerla. Un consiglio, se invece la tazza è troppo speciale da usarla quotidianamente e che quindi non usi per paura che si rovini o si rompa, consiglio di spostarla o in un altro posto in bella vista oppure in una scatola dedicata ai ricordi. Cibo scaduto che non hai intenzione di usare. Quell'ingrediente specifico per quella ricetta che non farai o non rifarai mai più. Non c'è da pensare. Via. Salse vecchie. Ho una specie di salsa barbecue che è in frigo da non so quanto tempo. Sul serio non ricordo come e quando ci è arrivata. Ecco questo è un segno che forse è meglio buttarla. E ripeto qui parliamo di cose dove non c'è da pensare. Hai preso, hai buttato. Se è qualcosa da buttare ovviamente e facciamolo nella raccolta differenziata. Se invece è qualcosa a cui possiamo ancora dare una nuova vita mettiamolo in una scatola o contenitore separato. Cibo misterioso nel freezer. È presente quello che apre il freezer e nemmeno ti ricordi più cosa sia. Ecco io lo farò ora insieme a voi perché ho quel cavolo fermentato che mi sono portata dietro dal vecchio appartamento e siamo qui da quasi un anno. Contenitori non completi. Quelli senza il coperchio o forse il coperchio senza il contenitore e poi quelli che non scegli mai di usare o quelli che sono troppo usati. Elettrodomestici che non hai usato per più di un anno. Che cosa ti fa pensare che userai quella geggio che in un intero anno non hai mai usato? Chiediti che cosa dovrebbe succedere per fartelo usare. Vecchi strofinacci. Se ne hai di quelli brutti, troppo usati, macchiati che se viene qualcuno cerchi di nascondere è meglio se lasci andare. Usare cose belle a livello quotidiano aiuta la nostra autostima e a dare valore a noi. Questa è la nostra quotidianità e queste sono le cose che usiamo nella nostra quotidianità. E a usare cose belle creiamo una bella realtà. Ecco perché minimalismo significa solo cose belle. Passiamo all'armadio dove mi sento più specializzata in materia. Io adoro fare il decluttering dell'armadio più che altro aiutare gli altri a farlo, a rimuovere i blocchi e a mostrare alcune assurdità a cui ci attacchiamo. Dunque iniziamo subito dai calzini sbagliati con buchi eccessivamente usati e consumati che non metteresti sapendo di doverti togliere le scarpe. Ecco io uso questo indizio per decidere su cose come intimo, calzini, insomma ciò che solitamente non si vede. Se si vedesse lo indosserei quindi intimo che non faresti vedere a nessuno. Meriti di meglio. Vestiti per occasioni. Che alle occasioni degli ultimi due anni non hai mai scelto di indossare. Un motivo c'è e sai bene il motivo. Probabilmente hai altro che ti piace di più. Ovviamente qui parliamo di donare o di vendere. Vestiti che non stanno bene. Smettiamo di attaccarci a questi vestiti che non ci stanno bene, che non sono comodi, che non sono della taglia giusta perché forse un giorno li metteremo. Sono solo vestiti. Vendi, dona, regala ma non tenerli. Liberati da questi limiti. Le borse che non usi da più di un anno. Di borse io ne ho poche, davvero poche. Perché dovrei averne di più. Se ho le mie due preferite sceglierò di usare una di queste. Perché scegliere le altre? Non c'è motivo. E allora perché tenerle? Giusto per riflettere. Le scarpe che non usi da più di un anno. Se in un intero anno non le hai mai usate. C'è altro da dire. Lo so, il cervello dice e se un giorno mi servirà. È uno spreco di soldi. È stato uno spreco di soldi. Forse, dato che ora non le usi. Lasciarle andare invece è giusto. Perché libera lo spazio, libera la mente e insegna a fare acquisti più consapevoli. Provare per credere. Cinture. Cinture che, boh, andavano di moda tempo fa che oggi non useresti. Via. Pijama. Quel pigiama a cui stai già pensando. Troppo usato, deformato, macchiato. Lascia andare. Attaccapanni inguardabili. Ora, io non voglio promuovere il consumismo. No. È il contrario quello che faccio qui. Ma vedere tutti attaccapanni diversi. Tra cui quelli in ferro sottili della lavanderia. Quelli in plastica che ti danno al negozio. Quelli troppo spessi. Io voglio avere il piacere di aprire il guardaroba. E avere tutti gli attaccapanni uguali. Fa la sua parte. Passiamo al salotto e oggetti misti in generale. Decorazioni. Che ormai non hanno più senso. Magari cinque anni fa ce l'avevano. Ora non più. E magari c'è anche pensato di lasciarle andare ma non sembrava mai il momento giusto. Ecco, prendi questo video come un segno. Cavi. Quelli che non hai mai capito per cosa sono. Eppure sono lì da anni. Sapete, questa credo sia la categoria che è la prova che io sia davvero minimalista e che viva in una casa minimalista. Perché non c'è un cassetto, un contenitore pieno di cavi. Perché non abbiamo più la sensazione che tutto può servire. Perché non è così. Penne non funzionanti. Ne ho anch'io un paio che per qualche motivo sono ancora lì. Le penne si accumulano ma poi quando ti serve una di davvero ben funzionante non c'è. Forse a lasciare andare quelle che non funzionano avremo finalmente quelle che funzionano. Passiamo alle lenzuola. Hai presente quel set di lenzuola malmesso che continui a tenere perché ti dispiace buttare? È arrivata la sua ora. Se puoi dargli una nuova vita ben venga. Ma non usare questa scusa semplicemente per spostarlo dalla casa al garage e tenerlo lì ancora per altri cinque anni prima di buttarlo definitivamente. Mi raccomando prima di buttare. Se avete dubbi su dove una cosa andrebbe buttata date un'occhiata sul sito di chi gestisce la raccolta differenziata perché ci sono tutte le istruzioni. Avevo sentito che lenzuola coperti si potessero donare ai rifugi di animali. Io ho chiesto ad uno vicino ma non le vogliono quindi non so se sia vera questa cosa. Se ne conoscete di queste realtà scrivete nei commenti sarebbe bello poterle donare. Per lenzuola in generale io penso di dover avere la quantità necessaria per tutti i posti letto che ho in casa quindi anche il divano per ospiti e di averne due set buoni per ciascuno. Più di così non potrei effettivamente usare e non sceglierei di certo usare quelli malmessi per gli ospiti o per me stessa per la mia famiglia quindi perché tenerli? Fammi sapere sotto nei commenti quali di queste cose o categorie è più difficile lasciare andare e perché. Attrezzi per sport che non vengono usati da anni e anni. Dobbiamo accettare che le nostre priorità sono cambiate e che va bene così. Se ci attacchiamo a queste cose a vecchie attività se non le lasciamo andare non riusciamo a concentrarci sul nostro presente su ciò che conta e che importa veramente ora. Abbiamo sensi di colpa ogni volta che vediamo quei pattini pensiamo ecco da quanto tempo non li uso non ho tempo sono pegro ecco per colpa dei figli e così via. No semplicemente non è la priorità in questa stagione di vita. Foto di persone non più presenti nella propria vita come ex partner ex amici è un passaggio fondamentale per chiudere col passato e aprirci al nuovo. Cornici per foto. Io avevo così tanti cornici ma tipo una trentina e avevo questa idea di metterle ovunque. Poi ho cambiato stile di vita consapevolezza e ho capito che non mi interessa avere foto attorno a me tutti i giorni in qualsiasi momento e cioè momenti del passato persone del passato lo sguardo di altre persone. È un discorso un po più complesso e ne ho parlato in quel grande progetto a cui sto lavorando e che ho menzionato in un video quindi lo vedremo separatamente. Foto dal telefono. Lo so anche io scatto 20 foto per ogni cosa e un centinaio di foto al giorno di mio figlio e per non ritrovarmi poi con la memoria piena o nell'impossibilità di trovare una foto che mi serve nella confusione o anche semplicemente riguardarle poi non è così piacevole quando di una cosa trovi 20 foto quasi uguali con magari con occhi chiusi o sfocate quindi ho preso l'abitudine di cancellare subito o in un secondo momento quelle che proprio no così poi non mi ritrovo sopraffatta. Libri scolastici. Non c'è nessuna ragione per me sufficientemente valida per tenerli. Ce l'hai la ragione? No? Bene, lascia andare. Sì, scrivi là sotto, saremo i giudici. Scatole di prodotti. Quelle bellissime scatole di alcuni prodotti fatte bene che ti dispiace buttare tipo la scatola dell'orologio di alcuni cioccolatini ma alla fine non te ne fai niente se non per usarle per metterci cose che non usi. Io ho imparato la lezione anche se sono tentata a tenerle non le tengo più. A meno che non pensi ad un uso sensato subito per quelle cose non c'è motivo per tenerle. Vecchie agende. Quelle usate per metà 3-4 anni fa che dispiace buttare perché hanno ancora delle pagine vuote. Tenerle lì nei cassetti è completamente inutile quindi o tiriamole fuori e cerchiamo di usarle per qualcosa oppure se non siamo soliti ad usare carta buttiamole facendo attenzione alla raccolta differenziata. Passiamo al bagno. I campioncini. I campioncini. Scusa Bass. So per certo che tieni campioncini che non usi e non userai ormai vecchi e sai da dove so? Perché ne ho anch'io. Li tengo e non li uso. Ma ho preso una decisione. Li ho messi in un posto visibile e disponibile e ho deciso che o mi impegno e li uso o li butto non tornano più nel cassetto. Tipo avevo due shampoo della Nux. Nux? 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 Bossa aiutami tu. Come si legge? Nux? Nux? Nux è? Nux? Tipo avevo due shampoo della Nux. Si legge così. Presi in albergo quelli piccoli che ti danno in bagno e li tenevo lì da mesi e li ho messi in bagno e li ho usati. Makeup scaduto. Niente pazzie o stare a pensarci per ore. Semplicemente un'occhiata veloce. Ciò che è scaduto. Ciò che nemmeno ricordi da quanto tempo ce l'hai. Fate un favore e butta. Solitamente dietro o sotto la confezione c'è quest'immagine di una confezione aperta e con un numero 6 o 12 e questi sono i mesi dopo i quali aperto un prodotto questo scade. Poi nel caso di ombretti secchi per me si può andare anche oltre quella data se non hanno odori strani. Non è che a 5 mesi e 3 settimane il prodotto va benissimo e a 6 mesi e 2 giorni è scaduto basta finito. È per dare un'indicazione ma certamente non sono da tenere per anni. Prodotti per la cura della persona. Scaduti tipo creme corpo o altro. Se ce l'hai da molto tempo e non è ancora finito significa che non ti piace e non lo userai. Tenerlo è inutile. Creme solari vecchie. Prova a vedere sulla confezione la PAO quella vista prima il periodo after opening cioè quel segno di 6-12 mesi e così via che è il periodo in cui il prodotto è ancora buono dopo averlo aperto. Quelli che hanno più di 2 o 3 anni sono decisamente da buttare. Lo so non vuoi creare spazzatura inquinare l'ambiente. So benissimo quella sensazione odiosa quando si vuole buttare qualcosa. Il fatto è che se non lo butti ora lo butterai l'anno prossimo non cambierà nulla ma a buttare o a dar nuova vita se è possibile c'è un cambiamento. Ci prendiamo la responsabilità e impariamo a fare acquisti consapevoli. Smalti quelli vecchi scaduti secchi. Semplicemente vai ora ora e li butti. L'hai fatto? Personalmente non ne uso zero e non ho intenzione di farlo per ora ma ne avevo anch'io tantissimi in una scatola intera. Avevo sempre lo smalto su. Le unghie senza smalto per me erano inguardabili. Poi un giorno semplicemente ho deciso di non farlo più. Sono passati ormai credo 5 anni senza smalto e personalmente sto benissimo. Questo è per dire che non sono contro gli smalti ma che se pensavi di fare questo cambiamento prova. Oli essenziali li hai da molto tempo e mai usati prova a vedere se puoi regalarli. Prodotti per le pulizie. Io ho accettato che il prodotto magico non c'è. Non c'è. Quindi punto semplicemente a quei due prodotti il più sani possibile. Basta. Sì lo so che aspettate un video sulle pulizie che non sento di avere abbastanza da dire. Fatemelo sapere sotto e mettete un like a questo video. Se supera i 10.000 like significa che è un segno che lo devo fare. Elastici per capelli troppo usati rovinati che non sono più elastici. Butta. Medicine scadute o che semplicemente non servono più e sai che non serviranno più riportali in farmacia. Integratori e vitamine che sono lì nel cassetto in cucina da anni. Qui secondo me c'è del FOMO. Fear of missing out. Paura di perdersi qualcosa. E se fa veramente miracoli. Se prenderò quell'integratore e avrò energia. Sarò in perfetta salute. Insomma magia. Poi finiscono per stare lì nei cassetti. È ovvio che non è il caso di tutti e di tutti gli integratori. Solitamente si tratta di quelli acquistati così per pubblicità o perché qualcuno l'ha detto e magari non ne avevamo veramente bisogno. Giochi per bambini che non usano, che non sono funzionanti, che hanno pezzi mancanti, che se morde va via la vernice. Bisogna toglierlo. Ovviamente fino ad una certa età, quindi due o tre anni, lo facciamo noi per loro. Poi cerchiamo di insegnarglielo, di farlo insieme. Sarà una bella abitudine che si porteranno avanti per sempre. Categoria carte e abbiamo quasi finito. Fammi sapere sotto nei commenti quali di questi oggetti o categorie per te è più difficile lasciare andare e perché. Scontrini vecchi, quindi vecchie fatture ricevute e così via, tendono ad accumularsi. Si crea questa montagna di carte che quando servono non si trovano. Un'occhiata veloce e butta ciò che non serve più. Il manuale delle istruzioni per elettrodomestici o mobili che non si hanno più o non funzionano più. Menù dei ristoranti, diciamo più pizzerie e simili. Si trova tutto facilmente online, non c'è bisogno di tenerli. Le carte dei negozi. Non so se hai notato, ma non servono perché ti trovano o con il nome o con il numero di telefono. Noi ne abbiamo solo un paio di negozi dove andiamo più spesso e non abbiamo mai usato la carta in formato fisico. Riviste. C'è ancora qualcuno che ne ha. Se ne hai e non le usi perché è passato molto tempo, le hai già guardate e lete, le puoi lasciare andare. E per ultimo garage e cantina. Confezioni di pittura aperte da anni. Scadono e si seccano. Tenerli per anni non ha senso. Prova a darci un'occhiata e considera di buttarle. Scatole di vecchi elettrodomestici. Nell'eventualità che possa servire uno un giorno, si dovrebbero tenere tutti e a me quest'idea non convince. Una volta aperto e provato che l'elettrodomestico funziona, per me non c'è motivo di tenerli. Puoi prenderti una giornata e passare tutte queste categorie, così come puoi usare il mio metodo di 10 minuti e fare quante categorie possibili. Fare decluttering aiuta ad essere consapevoli di quello che abbiamo e a creare delle sane abitudini. Acquistare consapevolmente, tenere le cose in ordine, non lasciare che scadano o facciano muffa. Fare decluttering è una buona abitudine per la vita. Scarica la guida sotto per un aiuto extra e ci vediamo al prossimo video. Fino ad allora fai spazio nella tua casa e nella tua mente. Peace